E' un lavoro di squadra che è stato messo in campo in queste settimane. Un lavoro complesso, delicato, difficile, vissuto a fasi alterne e siamo tutti quanti convinti, per tutti quanti intendo chiaramente l'amministrazione nella parte dei vertici politici, ma anche della dirigenza amministrativa, la holding che ha svolto un ruolo fondamentale come anche indirizzo strategico, come valutazioni strategiche e ovviamente ANM. Gli scenari su cui si è lavorato concretamente in queste settimane, sui quali quindi bisogna mettere in campo delle decisioni per poter raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo prefigurati, sui quali poi dopo ci ritorno, sono tre. Uno che è quello con cui lei ha anticipato la domanda, cioè quello che più ci preoccupava tantissimo, data la situazione grave in cui versa ANM è quello del fallimento. Il fallimento può arrivare con istanze di creditori, può arrivare in tanti modi e questa sarebbe stata e sarebbe la più grave notizia, ma non solo per ANM, ma per la città, perché il fallimento di un'azienda è un fatto grave e quindi va scongiurato in ogni modo e quindi noi con questa azione creiamo tutte le condizioni perché ANM non fallisca. Poi c'erano gli altri due scenari. Uno è quello sul quale abbiamo lavorato per lungo tempo, che era quello di continuare nella situazione con cui ANM ha lavorato in questi anni, mettendo però in campo in questi mesi una serie di cambiamenti. Voi sapete che l'amministrazione comunale ha chiesto un piano aziendale, industriale importante all'azienda, ha messo in campo risorse economiche. Vorrei ricordare che noi siamo la città d'Italia, nonostante il predissesto che dà più risorse economiche all'azienda pubblica, solo quest'anno abbiamo dato 100 milioni di euro, abbiamo firmato un protocollo in cui si era detto che bisogna fare tante cose. Insomma, siamo arrivati al punto che anche in questo anno grosse novità che ci facessero intendere un cambio rapido, veloce, che potesse invertire la rotta nell'indebitamento mensile, nel piano industriale, nell'attuazione di ciò che ci si era impegnati da parte di altri affari non c'è stato. Allora, protrarre questa situazione, a parte il Comune di Napoli, sapete perfettamente, oltre agli sforzi acrobatici che ha messo in campo da un punto di silenzio finanziario, non ne può garantire. Dal momento in cui nessuno ci è venuto a proporre, pur avendolo noi chiesto, finanziamenti aggiuntivi, non è che abbiamo avuto emendamenti come è accaduto nel Piemonte, dove forze politiche in contrapposizione del Paese si sono uniti per salvare l'azienda del trasporto pubblico a Torino. Ne abbiamo avuto finanziamenti aggiuntivi della Regione Campania che si è impegnato a fare quello per cui già più volte ci abbiamo sottolineato. Di fronte a questo i tecnici hanno proposto, e i tecnici intendo non solo del Comune di Napoli, della holding di ANM, ma ripeto con un ruolo importante che ha svolto l'holding, con un lavoro di squadra di tanti, questa ipotesi del cosiddetto concordato preventivo in bianco che consente di mettere in campo un'inversione di rotta repentina che punta, e questo è l'impegno forte che prende il sindaco, l'amministrazione, la holding, ANM e la maggioranza. Punta non al salvataggio di ANM, perché noi in questo momento se non prendevamo una scelta di questo tipo rischiavamo di lavorare per un salvataggio a termine di ANM, mentre invece noi con questa operazione puntiamo al rilancio da subito di ANM, di intervenire se ovviamente ci saranno le condizioni che metteremo in campo e che la magistratura riterrà credibili un'operazione immediata sul debito pesantissimo di ANM, consente di non mettere a rischio un lavoratore di ANM, consente di immediatamente mettere in campo entro 120 giorni quel piano industriale che a questo punto vedrà un'iniziativa politica diretta anche dell'amministrazione, ci vuole una shock therapy perché noi dobbiamo esattamente puntare da subito all'innalzamento della qualità dei servizi e dobbiamo presentare un piano industriale con dietro una squadra forte come la nostra, credibile, che fino adesso non ha perso una partita in questa città, per convincere tutti che l'azienda del trasporto pubblico di Napoli e della città metropolitana di Napoli è appetibile per investimenti importanti su gomma e su ferro, anche per quanto riguarda il tema dei fornitori. Questo è importante perché significa che noi stiamo creando le condizioni per uscire da una situazione che poteva essere assai pericolosa, cioè tale da portare o a un immediato fallimento o semplicemente a un'agonia che portava sì in quel caso a mettere concretamente a rischio i posti lavoro, forse solo qualcuno che ha goduto in questi anni di un qualche immobilismo o privilegio se ne poteva godere, ma giusto per qualche altro attimo di tempo. Quindi io che pur so stato, però ci voleva questa lunghezza perché il tema è delicato, io all'inizio ho guardato con preoccupazione e anche con un iniziale contrarietà a questa ipotesi, voglio dire che i tecnici, a da me ascoltati, tanti dirigenti e tante persone mi hanno convinto che questa è la scelta migliore per mettere in condizioni l'ANM di rimanere pubblica e questa è un'altra cosa non scontata e con questa operazione potremmo anche continuare a mantenerla tutta pubblica su ferro e gomma, poi si aprirà un dibattito in questi 120 giorni e vedremo qual è la soluzione migliore, ma sicuramente noi siamo per la posizione pubblica, garantire i posti di lavoro e finalmente consentitano perché poi gli strali di un trasporto pubblico non funziona, in città se riprendono tutti, i lavoratori innanzitutto che stanno sopra al mezzo di trasporto, ma insieme ai lavoratori si riprende il sindaco e quindi noi con questa azione dimostriamo che teniamo al massimo ANM perché scongiuriamo un altro pericolo che era quella della privatizzazione di ANM, cioè attraverso una sua liquidazione, attraverso un suo fallimento o un nostro arretramento si arrivava alla privatizzazione e vorrei che si comprendesse tutti, la città ma anche i lavoratori, e mi riferisco soprattutto a loro, ai sindacati e ai lavoratori che incontreremo nelle prossime ore, avremo già incontrato stasera, ma come vedete siamo in consiglio comunale, che questo è il momento di essere molto uniti, perché questo è per ANM l'ultimo trama, visto che parliamo di trasporto. Se noi non siamo in grado tutti insieme in questi 120 giorni di essere credibili, di essere autorevoli, di essere uniti, c'è il rischio concreto che tutto quello che stiamo mettendo in campo non porterà da nessuna parte. Io sono convinto, perché ci ho lavorato anche molto in questi giorni, che questa non solo era l'unica strada praticabile, ma è una strada che ci porterà ad uscire dal tunnel dove c'è la luce, la luce per noi è un trasporto pubblico pubblico, un trasporto efficiente finalmente fino in fondo e che ci faccia vincere quella sfida che finora non abbiamo mai perso di non licenziare nemmeno un lavoratore e anzi di creare le condizioni finalmente e fin anche anche di assumere nella nostra azienda il trasporto pubblico. Lei ha detto in questo discorso che in questo anno in cui voi avevate chiesto un piano di rientro per migliorare la condizione di ANM non sono arrivati i risultati. Questo significa che chi ha guidato l'azienda non è stato all'altezza della sfida? Risultati apprezzabili sull'inversione di rotta non ne abbiamo avuto, con questo non voglio dire che non ci siano stati dei risultati o che ci siano stati immobili in questi mesi, però sul piano della lotta all'evasione, la capacità di contribuzione, ma anche a poter far camminare lo stesso protocollo per dire l'ultima, ma non scarico la responsabilità su qualcuno, lo vedo come dato oggettivo, perciò ho parlato di shock therapy. Shock therapy significa che dobbiamo essere tutti credibili, autorevoli e capaci, questo significa che nelle prossime ore si faranno tutte le scelte necessarie per formare la squadra migliore per realizzare tutto questo, per realizzare soprattutto il piano industriale, per coinvolgere i lavoratori, perché senza i lavoratori non si va da nessuna parte, come senza l'amministrazione non si va da nessuna parte, qua dobbiamo essere uniti, poi possiamo discutere, dialogare ed è questa una fase molto interessante, perché avendo 120 giorni noi possiamo insieme trovare la soluzione migliore, purché si comprenda tutti che questo è un momento di una svolta radicale, anche all'interno della gestione dell'azienda, gestione non penso solo, penso a tutti, penso a chi la guida, penso ai dirigenti, penso ai funzionali, penso quindi ai quadri, penso ai sindacati, penso ai lavoratori, questa è una sfida che se qualcuno si mette di traverso, se qualcuno si mette di lato, se qualcuno sta solamente a guardare, questa sfida veramente si rischia di non vincere, qui noi abbiamo creato le condizioni perché questa sfida si vinca, lavoreremo con il sindaco in prima persona che si assume la responsabilità come sempre di questa fase, noi in questo momento siamo compatti, è compatta la giunta, è compatta l'amministrazione comunale, è compatta la holding, è compatta la NM che ha dovuto portare questa azione, è compatta la maggioranza, vediamo adesso come si procede, noi la partita la porteremo fino in fondo, ovviamente se ci sono ostacoli li rimuoveremo, perché non ci possono essere ostacoli a tutto questo, perché noi alla fine sì, dialoghiamo con tutti, ascoltiamo tutti, ma il nostro obiettivo è salvare l'azienda e rilanciarla, salvaguardare i posti di lavoro e garantire i servizi ai cittadini, io sono il sindaco di Napoli, sono solo il sindaco dei lavoratori di NM, sono il sindaco dei lavoratori di NM, tanto è vero che li cito sempre, lavoratori e lavoratrici li difendo e non licenzieremo una persona, ma sono anche il sindaco dei cittadini che sono stanchi di subire poi cose di cui non hanno nessuna colpa.